Musica Ebbene se amici di Cittadiano, come vedete mi sono munito di un casco integrale perché Big Wave vuole imparare a correre è assolutamente falso quello che sto dicendo adesso vi presento un campione, ce l'abbiamo qui ad Ariano Irpino abbiamo il piacere di parlare con un campione, non in erba, ventenne ma già la sa tanto lunga parliamo di Giuseppe De Gruttola che correrà quest'anno, ascoltate un po' me lo leggo per gli European Junior Cup, quindi sarà un evento negli eventi e fra un po' partirà per la Spagna allora prima di tutto presentiamo l'amico Giuseppe Giuseppe, dici quanti anni hai e da quanto tempo fai sto sport? Ho 19 anni e dall'età di 6 anni che corro con la moto, quindi sono diciamo 15 anni che... Sei nato sulla moto? Sì, 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 sono nato Ma sta passione da dove è partita? C'è qualcuno in famiglia oppure che ne so, vedevi girare in tv? Com'è partita sta cosa? Questa passione è partita grazie a mio padre che è sempre stato un amante dei motori e un giorno mi portò a Sturno dove correvano tutti con le mini mode e da lì mi appassionai e non ho lasciato più questo sport E da allora tante gare, tante vittorie, tante prove importanti, adesso l'evento degli eventi quest'anno spiegaci un po' dove correrai e per chi correrai Questo praticamente è un trofeo in concomitanza con la Superbike che sono 8 appuntamenti tra cui 6 all'estero e 2 in Italia è un campionato che ti può fare emergere cioè nel senso che se comunque vinci questo campionato l'anno dopo correrà nell'Europeo Stock 600 in un team ufficiale Honda Quindi la tua sarà una moto? Questa è una Honda 650R E si vola sulla Honda 650R Senti è una cosa che volevo sempre chiederti me lo sono sempre chiesto ma le velocità che si toccano massime quali sono più o meno che riesci a toccare? Ma i 280, 270, 280 con dei rettilini lunghi li riesci anche a toccare Fantastica sta cosa Chiaramente tutto questo nasce da tantissimo tempo tanti anni dalla famiglia, dal papà che si è prodigato tantissimo ma tutta la famiglia mi pare che ha appoggiato la tua passione Sì, anche mia madre è appassionata come me mio padre, tutti quanti mi appoggiano per questa cosa Facciamo un salto di tempo adesso non parliamo delle vittorie che ha avuto nell'arco del tempo e negli anni arriviamo ai giorni nostri è arrivata questa proposta, questa richiesta come un lampo a Celsereno Chiaramente per far tutto questo hai bisogno di un supporto hai bisogno di una sorta di chioccia che ti accompagnerà un team che ti seguirà una vecchia conoscenza anche di noi di cittadariano perché parliamo con l'amico Riccardo Iannarone Riccardo, una bella botta di adrenalina Sì, sicuramente è stato veramente come poco anzi hai detto tu un fulmine al Celsereno perché Giuseppe io lo seguo da tanti anni indirettamente, logicamente perché praticando noi un altro sport però lo seguo da tanti anni ci ho sempre creduto in questo ragazzo anche perché fanno dei grossissimi sacrifici per poter portare avanti tra virgolette questi loro sogni e bisogna sognare nella vita perché se non si sogna non si può arrivare da nessuna parte Quindi diciamo che dietro a tutto ciò c'è un mare di sacrifici però tanta buona volontà e tanta voglia di fare Sì, sicuramente la base è questa che ci sono tanti, tantissimi sacrifici sia a livello umano ma soprattutto a livello economico e noi facciamo veramente molta fatica nel nostro piccolo sud Italia ma anche al nord negli ultimi periodi a trovare delle fonti di sponsorizzazione un ragazzo come Giuseppe che quest'anno andrà ad affrontare comunque un trofeo a livello europeo con sei tappe distribuite tra la Francia, la Spagna, l'Olanda e Portogallo Spagna e due tappe in Italia voglio dire un campionato importante e si fa fatica a trovare qualcuno che creda in questo sport e creda in questi ragazzi giovani Io ho avuto questa grandissima opportunità di accompagnarlo a lui e seguirlo su tutte le gare che andremo a affrontare spero di dargli tutto quello che ho imparato in 25 anni di gare Sicuramente dall'emozione con cui tu parli di questa cosa gli darei un grandissimo supporto Senti, si parte subito con la presentazione ufficiale da 6 aprile e ce ne andiamo nella Terra Mitica in Spagna Sì, partiamo dal giorno di Pasqua e faremo la presentazione del trofeo con tutti i partecipanti e i due giorni seguenti affronteremo i primi test per testare un po' la moto, la pista e vedere un po' Giuseppe di trovare subito un giusto feeling con la nuova moto perché parliamo che comunque è una moto a noi sconosciuta Senti, si parla di giganti giganti della tecnologia, di campioni veri e propri cioè non è un impatto facile non sarà un impatto facile Assolutamente no però questo è motivo di crescita per tutti soprattutto per lui perché solo stando in determinate situazioni a contatto con delle realtà superiori si può imparare e soprattutto cercare di come si vuol dire di far tesoro di quello che ti passa davanti È fantastico Senti Giuseppe, tu sei l'attore principale di questa cosa ma tu come ti senti? Come vivi questa vigilia? No, io mai come quest'anno sono carrico davvero carrico, carrico, carrico e poi mi piace anche il fatto che come abbiamo detto prima partiamo io e lui, due arianesi che vanno in un campionato a livello europeo e spero di far bene e credo di far bene La grinda ce la metterei tu? Tutto, sì, sì, sì Senti, si tocca allora diciamo proprio i posti dove andrete a gareggiare a correre, si dice così, spero si dice così allora si andrà a fare questa presentazione nella terra mitica Spagna a Calafat poi la prima gara a Motorland Aragona quindi ad Aragona a seguire, parliamo di Spagna poi direttamente in Olanda lo fate aprile 19 quindi 12-19 si parte per Assen ed ancora poi si torna in Italia si torna a Imola il 10 maggio e a seguire poi Donington il leggendario circuito Donovan Park in Gran Bretagna e vi dico ancora delle altre tappe allora giugno 7 Audodromo Internazionale de Ado Algarve in Portogallo un'altra terra importante si torna in Italia il 21 giugno a Misano e poi Gerez Gerez, diciamolo bene settembre 20 in Francia per poi aspetta, sì, poi c'è Magnicour ancora, no, no, aspettare Gerez in Spagna, perdonatemi lo diciamo bene poi si va a Magnicour in Francia e a seguire si chiude il campionato sentite non bisogna mai fare bilanci prima di cominciare ma le aspettative quali sono? quali potrebbero essere? tutto sarà positivo diciamo guarda da da tanti anni di gare le aspettative sono sempre le più positive perché logicamente bisogna partire con uno spirito giusto e oltre ad essere delle semplici aspettative io penso che quest'anno Giuseppe farà veramente bene perché la serenità e la tranquillità di un pilota è il 101% quindi parte da un ambiente sereno sicuramente qui da Rioner Pino una famiglia che ti appoggia questa è una cosa importantissima non avresti fatto poco o niente se non avessi avuto il papà la mamma tutti quanti so che in famiglia tutti ti seguono vero? sì 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 però diciamo che in linea di massima sono tutti con te quindi incrociamo le dita tutti quanti sentite io intanto personalmente da Rianese devo ringraziare voi devo ringraziare Giuseppe devo ringraziare con forza te Riccardo che ti prodighi so che state per cominciare anche una nuova esperienza per quanto ti riguarda per il circuito che sta per essere riattivato parliamone a grandi linee velocissime sì 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 quest'anno finalmente abbiamo realizzato veramente un grande sogno nel senso che abbiamo realizzato un impianto permanente di motocross ad Ariane Irpino omologato CONI e FMI quest'anno avremo la quinta prova del campionato regionale motocross il 24 maggio vi invito tutti a partecipare e sarà una bella cosa e in concomitanza rifaremo per la quarta edizione anche il Memorial all'emmelito clara il ricordo di mia madre fantastica quella cosa che ho avuto il piacere il privilegio grazie a te di parteciparvi come speaker come presentatore e sono stato benissimo Giuseppe allora siamo arrivati alla fine di questa di questa intervista tu non sei molto avvezzo al microfono non ti piace molto il microfono ti piace più girare no a me il riflettore è una cosa che proprio non mi piace però purtroppo con questo sport devi fare anche questo senti una cosa che ti volevo chiedere normalmente si parla sempre di vincere di perdere ma tu alla fine comunque vale come la prenderai se dovessi andare male dai diciamo questa cosa è una domanda strana ma la prendi sempre ci rimani male perché comunque ci rimani male però comunque dopo combatti sempre per fare di meglio l'anno dopo non è che ti abbatti perché in questo sport ti può andare bene come ti può andare male quindi non è che questo è molto maturo l'amico Giuseppe senti ma facciamo una cosa così pare tu hai un nickname come Valentino come tanti altri ce l'hai un soprannome ma io da quando corro con le mini moto è sempre stato Giux diciamo Giux sì diminutivo di Giuseppe bene noi arrivati a questo punto intanto ringraziamo ancora una volta l'amico Riccardo Iannarone per tutto il supporto e comunque vada sarà un grandissimo successo cos'altro già lo è già lo è un successo scusami Antonio partecipare a questi campionati non è una cosa da tutti i giorni quindi è un grandissimo privilegio per voi per te fai tesoro di tutto ciò in bocca al lupo si può dire mi pare che ho parlato con voi si può dire noi ci diamo un appuntamento subito dopo quando tornerai ci darei delle splendide spromesso speriamo lo spiro sì sì bene incrociamo le dita grazie ancora a tutti voi state in campana e ascoltate una volta tanto il rumbo del motore perché ad Ariano Irpino si gira ma si gira sul serio grazie a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti